L'anno scolastico sta per iniziare, all'Aquila però sarà il 14esimo anno di fila nei Musp. Anche se il comune dell'Aquila con i poteri commissoriali è accelerato di molti processi ed è pronto per mettere la prima pietra in diversi edifici, la realtà denunciata dai comitati cittadini è sempre la medesima. Scuole ancora nei Musp in quei moduli che dovevano essere solo provvisorie e che sembrano oggi definitivi, si hanno anche delle problematiche con i cortili di accesso alle scuole con tutti i problemi del caso peraltro di scarsa manutenzione. Ma il dibattito sulle scuole in città è sempre molto vivace perché al di là dei progetti c'è anche la polemica che nessuna scuola pubblica sarà ricostruita in centro. A tal proposito si sono levate anche le voci di tante famiglie che abitano in centro storico, che continuano a ribadire che senza scuole in centro non si può pensare ad un vero rilancio della zona interna alle Mura. Dopo 14 anni, quasi 15 ormai, andiamo verso 15 anni, si è fatto molto ma c'è ancora moltissimo da fare perché sono in corso diversi progetti di ricostruzione delle scuole, però ci troviamo attualmente nelle scuole nella situazione in cui si trovano il 2009, per cui ci sono circa 3.500 bambini ancora nei Musp da ricostruire e molti altri in altre scuole che hanno indici di vulnerabilità bassa. I Musp purtroppo erano fatti per durare 5 anni e ne sono passati quasi 15, per cui la situazione comincia a diventare veramente emergenziale. Speriamo che nei prossimi mesi siano trovate soluzioni rapide che possono dare una risposta a questa esigenza.